Ho approvato in Consiglio Comunale una perequazione che riguarda la zona agroindustriale per consentire l'ampliamento di due importanti attività produttive del nostro Paese, della nostra comunità, che porterà sicuramente a una riqualificazione di un'area che era degradata e garantirà però anche degli standard ambientali. È stata una procedura lunga e difficoltosa ma è stata opportuna che fosse così perché va a garantire proprio anche la questione ambientale e il rispetto di un'area particolarmente importante per i comuni di Castelcomberto. L'ampliamento in località Conca va a svilupparsi in un'area già a destinazione agroindustriale e quindi non comporterà cambiamenti sulla destinazione urbanistica del territorio. Uno snellimento delle procedure dove verranno comunque garantiti gli 800 metri quadri di aree verdi e opere di mitigazione ambientale che miglioreranno non solo le capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici ma garantirà un elevato standard degli aspetti paesaggistici e naturalistici dell'area. La perequazione non rappresenta semplicemente un procedimento amministrativo di facciata ma anche di contenuto. La modifica è stata soggetta ad un approfondimento attraverso un'indagine della conferenza dei servizi per verificare e tutelare le qualità originarie. L'operazione rappresenta un passaggio importante che permette al comune un incasso di risorse preziose destinate ad opere pubbliche a tutto vantaggio della cittadinanza, dalla viabilità all'illuminazione, dalla segnaletica alle nuove opere in funzione della sicurezza fino alla realizzazione di un nuovo ecocentro. È stato un atto non solo formale in realtà perché le formalità sono state svolte tramite le indagini della conferenza dei servizi appunto per garantire il rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area. Sicuramente diventa un intervento anche molto importante per il comune e per la cittadinanza perché andiamo a incassare una cifra di circa 350.000 euro.